Musica Allora inizio con una domanda di rito, ovvero bentornata al Festival delle Cerase e perché il Festival delle Cerase? Perché? Intanto perché mi hanno invitato, mi fa molto piacere perché è un festival che mi piace tantissimo, lo seguo da lontano, da Roma, non lontanissimo insomma, lo seguo con piacere perché il pubblico è veramente molto appassionato così come voi che lo organizzate, Silvio e voi tutti, quindi sono molto contenta di essere tornata qui. Ti abbiamo visto in questo film su Burra con un look totalmente nuovo e con una recitazione intensa. Quanto è stato difficile prepararsi per questo personaggio? Il look e la recitazione dipendono poi dal personaggio che interpreti, quindi per forza devi cambiare sempre perché altrimenti fai la stessa cosa e per me non ci sarebbe storia. Faccio questo lavoro proprio perché mi piace interpretare personaggi sempre diversi, a sé stanti, unici, speciali. E' stato complesso ma faticoso però bellissimo come sempre interpretare un ruolo che faccio, che scelgo con, ponderando bene tutti i vari aspetti. Sì, diciamo che non lascio nulla al caso come attrice e poi dopo, prima di scegliere di fare qualcosa e poi dopo quando vado sul set a maggior ragione lì è proprio tutto calcolato. Dentro questa storia che ha il fiato sul collo dell'attualità siete riusciti comunque a creare una storia d'amore perché quella con Borghi ci avete donato una vera e propria storia d'amore. Come è stato lavorare con lui? Ma guarda, dici questa cosa e mi fa ridere perché mi ricordo che quando sono uscita dalla prima volta, dalla prima proiezione, la prima volta che ho visto Suburra, Solli mi guardò e mi disse, ci abbiamo fatto un film romantico ed era vero perché io non me ne ero, in realtà non me ne ero resa conto, non ero pienamente consapevole di questa cosa, cioè sapevo che il mio personaggio avrebbe dato la vita per il suo amore però l'avevo recitato così ed era quella l'unica luce, l'unica cosa che veramente contava per lei. E quindi mi fa molto piacere che sia emersa questa cosa, che tu mi stia dicendo questa cosa anche se poi effettivamente guardando il film è palese. Beh, devo dire che con Ale mi sono trovata benissimo, anche lui è un giovane attore come me, rampante, pieno di voglia di fare e sempre molto attento, disponibile sul set, quindi insomma ci siamo trovati bene e poi alla fine il risultato era veramente, anch'io ne sono rimasta molto contenta. Ti abbiamo conosciuto tanti anni fa con delle serie tv tipo un po' salsole, tanta gente questa sera ti individuava e diceva sì ma la ricordo fin dall'inizio. Ecco, adesso ci sarà anche la serie tv di Suburra, ti vedremo? Non lo so, non lo so, so che sì, so che ci sarà la serie però sono tutte le carte in tavola ancora coperte quindi non lo so, magari. Noi facciamo il tipo per te. Grazie. Grazie a voi.